Il funghigno fiore Ecco, la parola fine ormai appare, end per i film inglesi e americani, e conclude il mio documentario, diario sulla terrificante guerra, che ha travolto l'Italia e la terra quasi tutta. Indelebile resta, dall'infanzia stampata nella mente, in mane poi s'allarga lo splendore orribile di un nuovissimo fiore d'agosto fiorito in Estremo Oriente, col mortale fungo atomico e vasto, anzi, ha perso il suo capello nefasto nel ciel di Hiroshima e Nagasaki e diede inizio all'era dell'orrore nucleare ed il proprio stemma inferse per il profondo guasto intimo e morale degli strateghi di violenza ubriachi. E ferale fu annusare il bagliore in odore di quel funghigno fiore per ogni essere e genere vitale.